Ehi, cosa c'è? E che vuol fare? Che vuol fare, dottore mio? I soliti pensieri? Anzi, i pensieri fissi, come un'idea, una cosa che... Adesso, guardi, tenterò di spiegarvelo, è come se un'idea mi prende un'essere, un pensiero, ecco, non so se è chiaro, un pensiero, proprio... Vieni qua, è meglio lasciarli su, sei un parente? No, no, ho preso un passaggio sull'autostrada, all'improvviso chissà cominciare a dire... Sì, vai, non ti preoccupare, ci pensiamo. No, a me lo porto proprio, più. Ecco, aspetta qua. Vieni, però... Vieni, è giù, non lo porto qua, se me ha giù a tàccar? Non, non ci... Giallo? Giallo? Boh, ma, ma, no, orgoglio e dignità, dignità e orgoglio. Io, io me ne frego della dignità, me ne frego, se qualcuno mi viene a chiedere, tu vuoi cambiare persona, vuoi diventare un altro, lo sa che cosa gli rispondo io? No? Sì, certamente! Cosa gli rispondo io? Sì, certamente. Bra! Eh? Io non sono un'ipocrita, lo sa che quando si va a chiedere a uno, no, per la strada, uno qualsiasi, vuole diventare Gianni Agnelli, vuole diventare, per la bellezza, l'endelon, per dire, io lo chiedo, vedrai che cosa le risponde, lo sa che cosa le risponde? No! Certamente! Se invece viene da me e mi chiede, mi chieda, provi a chiedermelo, vuole diventare Gianni Agnelli o l'endelon, provi a chiedermelo. Alendelon? Sì. Alendelon? Lei, provi a chiedermi, vuole diventare Gianni Agnelli o l'endelon, e io vedrai che cosa le rispondo, io vedrai che cosa le rispondo se mi lo chiede subito. Vuole diventare Gianni Agnelli o l'endelon? Facciamo finta che lei me l'ha chiesto. Non l'ho chiesto, ho chiesto proprio lei vuole diventare... Insomma, lei ha le idee confuse, lei mi doveva chiedere, ha fatto un giro di parole, lo dico io al suo posto, lei vuole diventare Gianni Agnelli o l'endelon e vedrai che cosa le rispondo, sai che cosa le rispondo io? Sì, certamente, certamente, perché loro c'hanno tutto, c'hanno le donne, e c'hanno la ricchezza, e c'hanno la bellezza, e la salute, e poi c'hanno le chiavi per gli appartamenti, e i pianoforti, e le casse forti, e le cassate, e le gazzose, e le casse dello champagne, e la casse da morto, e incazza che c'ho io, guardo un po' se è diversa la situazione, sì o no? Sì o no? Sì? Eh, pazzo qua. Eh, quello è un ragazzo strano. Ah, in America non sono strani così, eh? Io ci sono stato in America. GADANO! 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 Oh! Oh, ma che sangue una miseria comunque a fare questa maniera, volessi sapere. Ma che buco? Eh, niente, sto chiamando. Sì, stiamo chiamando? Cos'è la mia cholaksica, a questo mi, edo? Ado, ado! Cos'è il genoma lato? Sì, ado. Si, ado. Sì, sono molto cibi. Grazie.